È stato firmato un accordo tra carabinieri forestali di Firenze, Prato e i veterinari, uniti per gli amici a quattro zampe e spesso nel mirino di soggetti senza scrupoli che sfruttano gli animali per profitto. Aumentano infatti i reati legati al commercio illegale dei cani. Nel 2021 i reati perseguiti a livello regionale sono stati 1.456, di questi 480 tra Firenze e Prato, nello specifico 60 riguardano la tutela degli animali, per sanzioni amministrative che ammontano a 25.000 euro. Tra le varie razze ci sono alcune che si ritrovano con più frequenza nel commercio illegale. Possiamo dire in generale i cani toy, i barboncini, i maltesi, i bulldog francesi. Cioè una volta che una razza diventa di moda, per le leggi del commercio evidentemente qualcuno cerca di massimizzare il guadagno raccattando dove può raccattare. Con il progetto Perla si mira al contrasto all'illegalità nel settore del commercio degli animali da compagnia, in collaborazione con l'autorità giudiziaria. È diventato un grande business approvvigionarsi di questi animali, soprattutto da paesi dell'est, Polonia, Bulgaria, non citiamo l'Ucraina, ma anche questi erano dei paesi dove vengono importati questi animali. Una cosa che salta parecchio all'occhio è che questi traffici di questi animali sono fatti in particolare modo dal sesso femminile, perché il sesso femminile cade meno nell'occhio all'attività di polizia giudiziaria. Sia l'attività di indagine ma anche l'attività di tutti i giorni dà dati significativi relativi proprio alle denunce presentate da privati che acquistano purtroppo su internet, poi incorrono in patologie, l'animale magari muore, fruiscono del medico veterinario e da qui inizia magari la nostra attività di indagine per vedere di arrivare a capire questo meccanismo di traffico di cuccioli che ormai da alcuni anni veramente è un problema non indifferente.